Buongiorno a tutti, io sono Laura e benvenuti nel mio mondo dei giocattoli. Oggi farò una dottoressa e sarò l'assistente della dottoressa che oggi non c'è, quindi la devo susscrivere. Ok, facciamo entrare il primo paziente. Non riesci più a volare? Altore, io ho la tante. D'accordo, non posso fare un po' di domini. Cosa, come c'è? E' un po' di domina. E' un po' di domina. E' un po' di domina. Adesso dovrai aspettare 15 minuti e poi potrai rientrare Facciamolo entrare il prossimo Tu che hai pecora? Non riesco più a mangiare Sentiamo il cuore, magari qualcosa Vediamo Tutto a fila liscia 10 settili di flessi Adesso tocca a questo Anche se farò un po' paura all'inizio Non avere paura Noi lo usiamo per gli animali questa cosa Credo che ce lo dobbiamo mettere tutti dentro Noi ci mettiamo qua Visto che la pecorina è un po' fila Wow la pressione è molto bassa Vuol dire che dovremmo ricoverarsi Non ci preoccupare Per pochi giorni Vediamo la pecca Wow è altissima è rossa Che cosa è altissima Adesso tu Ciao Lenunco Cos'hai? Cos'hai? Ah è piccola È piccola Regia Andrò a chiedere ai quadroni cos'hai? Ok Sono andata a chiedere Ha una febbre altissima E non è molto normale Quindi Ci taglieremo i capelli Scherziamo Scherziamo Controlliamo un minuto prima il cuore Se hai qualcosa Dovremmo fare però un'operazione Anche qua Va bene Non ce l'ha Sei fortunato che a meno No No Questo non serve No 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 Vediamo Quanta febbre è Impossibile Ha 40 Di febbre Qua Mi dovrò scrivere qualcosa Eccola 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 Sì Una penna Faccio i colori Ok Adesso qui Dovrò scrivere un po' di medicina Non ti preoccupare Per me È poca Dai Ok Ok Rimiciliamo Poi Per 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 E se si è abbassata Dovremmo Lasciarlo andare Invece se non si è abbassato Faremo la seconda Invece 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 Ce l'ha a 27 E non si è abbassata Perciò Perciò Vedo che dovremmo fare Una seconda Perché La pressione è troppo bassa Fa male Quindi Perciò Facciamo il foglio Adesso Stai bene Tu non dovrei essere Invece Adesso Tocca Peppa Figgi Ciao Peppa Che cos'hai? Peppa Non parla E' persa la voce E' persa la voce Ehm Allora Credo di doverti dare Una medicina Ma non credi che Si dovrebbe andare Dalle 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 Cioè Perché vieni qua Che io Cioè Se stai male Una medicina Mangiala Una cosa Questa è l'acqua Questa è l'acqua Questa è l'acqua è l'acqua Questa è l'acqua è l'acqua è l'acqua Questa Ok Che stanchezza Ah Basta Io mi ritiro Bene Allora Per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Iscrivetevi a questo canale Al canale mio E di mia sorella Che trovate qui sotto In descrizione E Commentate qui sotto Iscrivetevi No, l'ho già detto di iscrivervi Mettete like E Niente, ciao Ciao Ciao